ciao ciao a tutti buonasera allora faccio questo video perché anche se già avevo detto che avrei staccato per un po per insomma ho visto quest'oggi un po di forti ribassi sul settore bancario ero al mare stamattina quando sono rientrato ho visto alcuni titoli che aveva un portafoglio meno 8 meno 10 punti percentuali in particolar modo biper banca e altri titoli e quindi niente volevo fare questo video un attimo per insomma tranquillizzare voi gentilissimi utenti che siete qui sul mio canale youtube iscrivetevi se ancora non l'avete fatto perché comunque insomma anche quando dico che non ci sono poi ci sono è sempre un piacere avere delle sorprese ogni tanto nella vita oggi ho avuto una sorpresa che voi neanche neanche sapete comunque veniamo a noi bancari bancari crollano sì effettivamente quando un titolo fa meno 8 meno 10 si tratta di un crollo verticale io ho un titolo scarognato biper banca ogni volta che entro in posizione puntualmente qualche giorno tipo crolla entra in posizione subito per banca un giovedì lunedì poi ci fu il crollo il fallimento di silicon valley bank quelle cose lì chi si ricorda più della silicon valley bank ma nessuno insomma però quel giorno tutti no valley man brother non ci sarà più notte cadranno le stelle dal cielo insomma alla fine tutti si sono dimenticati così come quando successo anche in passato ragazzi per farla breve oggi va così ieri c'è stato qualcosa al governo intanto questi si riuniscono e fanno decisione delle cose e mercato era agito in questo modo che vogliamo farci nulla prendiamo atto che comunque i bancari oggi sono scesi del meno 10 allora il discorso qual è se un meno 10 diventa un meno 40 se vedete ovviamente che nei prossimi giorni le candele i grafici perché io sono qui a parlarvi da investitore che usa i grafici se voi siete investitori che usano l'analisi fondamentale vabbè ragazzi non sono una persona per voi però so che tante persone che usano l'analisi fondamentale poi vedono questi video anche molti che sono lì a smanettare con l'analisi tecnica guardano questi video perché a un certo punto dinanzi a un quadro grafico bianco pulito limpido scevro è normale che tutti vengono attratti se fino a ieri erano lì a tracciare delle linee che non si capiva nulla quindi cosa voglio dirvi beh voglio dirvi che se la se l'operazione era pianificata in maniera intelligente se il timing era quello è stato quello corretto se il money management è stato quello corretto ragazzi di che vi preoccupate non sarà un meno 10 a mandarvi in rovina se il mercato dei bancari il settore dei bancari dovesse continuare a scendere sapete come intervenire se siete i miei clienti i miei studenti se non avete mai investito informazione con me perché Fabio tu sei troppo caro 2000 euro investi tre mesi 600 euro i videocorsi 2000 euro l'investment bootcamp il protocollo bridge ragazzi io sono dell'idea che ora siamo sinceri io non sono caro semplicemente so quanto vale la mole di informazioni che do privatamente mezzo consulenze, corsi, videocorsi quindi non mi vergogno a chiedere certi prezzi perché mai dovrei vergognarvi il discorso è che se farvi una consulenza con me di un'ora, un'ora e mezza da 3 a 4, 500 euro se venire un percorso di 3 mesi che dura appunto 15 settimane operiamo insieme vi costa 1000, 2000 euro non so neanche quanto costano ma poi questi investimenti in formazione vi consentono di evitare di perdere 15, 10, 20 mila euro allora capite bene che secondo me a un certo punto il gioco vale la candela ora non so fare quanti in tasca a nessuno ma il discorso è che chi è mio studente chi sa esattamente cosa fare in determinate situazioni non va in panico quando vede un titolo fare meno 10 sì magari un po' dice porca miseria nessuno piace vedere un meno 10 considerate a me io ho 6-7 titoli bancari alcuni sugli annuali alcuni sul mensile altri sul trimestre quindi una diversificazione intelligente che passa anche dalla diversificazione ovviamente di time frame ci sono 4 diversificazioni voglio la diversificazione intelligente che io spiego che io applico tra i ragazzi quello che io vi insegno prima lo faccio su di me prima i soldi li perdo io e poi evito a voi di farli perdere perché vi dico cosa funziona sono 4 livelli di diversificazione settoriale ovviamente di volatilità di money management e anche di strategia operativa quindi il discorso è quale? chi è impanicato oggi? chi è impanicato oggi? chi ha fatto all-in su bank MPS? io ho bank 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 a monte dei paschi di siena in portafoglio una new entry chi ha fatto all-in su unicredit? chi ha 50 mila euro io mi ammetto 20 mila su intesa 20 mila su unicredit 10 mila su fineco perché? perché? perché non sapete investire quindi chi è impanicato oggi? tutti coloro che operano male quindi cosa voglio dirvi? domani è un altro giorno i titoli salgono i titoli scendono ciò che non deve mai essere scalfita ragazzi è la vostra fiducia in quello che osservate è come agite in base a ciò che osservate se voi vedete che un titolo scende di grazia ma non che scende del 10 cioè che intraprendono perché magari oggi i titoli non so quando vedrai questo video comunque i bancari sono scesi del 7, 8, 10, 11% domani magari faranno meno 2 meno 3 dopo domani più 5 no tirate le somme su time frame almeno mensili chiaro? iniziate a utilizzare le candele dei kinashi che uso io probabilmente sono l'unico in Italia che le usa per gli investimenti no probabilmente sicuramente per gli investimenti comunque se c'è qualcun altro avrà copiato da me perché io sono 5, 6, 7 anni che uso per gli investimenti non per il trading perché per il trading c'è un'altra persona che però le usa per il trading le kinashi chiaro? quindi non fate confusione neanche tra investimenti e trading quindi quello che voglio dirvi è state tranquilli se l'operazione aveva un senso queste queste dinamiche ribassiste oggi fortemente rialziste domani magari sono devono essere totalmente gestibili se invece la vostra operatività è priva di senso sarà privo di senso anche questo video sapete perché? perché come si dice da me parti avere la testa dura come le pietre di mottola cioè alcune persone ragazzi non cambiano non cambieranno mai continuano a comprare quando i titoli scendono quando i bancari scendono anzi magari la maggior parte sono una liste fondamentali che davanti a un meno 10 di un istituto bancario vanno a mediare il basso ragazzi fate un po' quello che vi pare io sono qui per tranquillizzarvi per dirvi che ogni operazione pianificata per bene ha un'operazione con un capo e con una coda con una testa e con una coda dove la testa è ok io entro perché il mercato mi sta dicendo che non voglio entrare una coda come gestire la posizione nel mentre ovviamente c'è il money management che la fa totalmente da padrone se voi su monte dei paschi di Sine entrate con un capitale sproposito io ci ho messo il 2% del mio capitale su biperbanca ci ho messo il 4 su un altro ho messo il 3 ma beh ci sono discorsi che ovviamente tengo riservati solo ai miei membri del circolo che il circolo del giovedì adesso è sospeso ovviamente si va in vacanza li prendiamo a fine mese ora vediamo però il discorso tutto ciò che ha un senso non solo negli investimenti ma penso anche nella vita ha senso appunto di essere portato avanti quindi salvatevi questo video vedetevelo se la vostra operatività fa acqua nel senso che oggi appena avete visto meno 10 oh chiudo vendo acquisto che faccio chiamo il mio amico chiamo il mio broker no se avete fatto tutte ste cose vuol dire che ragazzi siete come delle canne al vento se invece volete essere dei pilastri di cemento armato diventate miei clienti miei studenti oppure magari vedetevi sti video vi fate un'idea e non seguite ragazzi non leggere tutte quelle bufale che vi propinano già io non oggi ero al mare a Monopoli ma era un po' agitato c'era un sacco di vento però non ho visto YouTube immagino già le grandi come dire le grandi cover i titoloni bank bruciati 276 miliardi di euro ma Banca Bami Banca Popolare di Milano che da inizio anno oggi è scirocco è cresciuta del 47% e che quindi magari di milioni di euro ne ha generati poi alla fine non ne parla mai nessuno statemi bene